Ciao ragazzi e bentornati a questa terza parte dedicata alla personalizzazione delle particelle oggi vediamo come utilizzare dei video per singola particella e le casistiche più comuni dei problemi che possiamo riscontrare con questo tipo di personalizzazione in più scopriamo anche l'ultima modalità del time sampling ovvero quella chiamata split e per terminare un breve e semplice tutorial in cui mettiamo in pratica alcune delle tecniche viste negli ultimi video per cui iniziamo una volta all'interno di after e con particolare inserito sul tinta unita entriamo dentro emitter dove cambiamo la proprietà di direzione impostando l'opzione directional e la ruotiamo sull'asse x di circa 78 gradi poi attraverso il directional spread possiamo dare un angolo di apertura come fosse un ventaglio e lo lasciamo attorno al 40 42 per cento dopodiché aumentiamo leggermente la velocità attorno ai 145 ora abbiamo un emettitore che dal suo punto spara le particelle verso l'alto e se ora le volessi trasformare simulando del fumo quale sarebbe il modo migliore per farlo sicuramente giocando con le particelle sferiche sfruttando opacità e ombre potremmo ottenere qualcosa di gradevole per delle illustrazioni ma per dare un aspetto più realistico possiamo sfruttare immagini e video reali attraverso la modalità sprite che abbiamo già incontrato per cui ci portiamo dentro particle e cambiamo la particella da sferica in sprite clicchiamo sul pulsante per accedere alla libreria dove utilizzando il pulsante add new sprite possiamo aggiungere la nostra grafica o clip video che verrà aggiunta in una nuova sezione in basso chiamata custom dove ora ho queste due immagini usate per un vecchio lavoro ma se entriamo nella sezione chiamata smoke and fire troveremo dei preset pronti all'uso ognuno dei quali prenderà il posto di ogni singola particella emessa e per capire se sono video o foto vi basterà premere con il tasto destro sopra una di queste per aprire la cartella che li contiene all'interno del plugin direttamente dal pc e vediamo infatti che sono tutti filmati move e se li clicchiamo possiamo riprodurli tramite il player torniamo quindi sulla finestra degli sprite e scegliamo per esempio lo smoke loop 5 e clicchiamo ok ora ogni singola particella è un filmato che riproduce del fumo ma essendo che sono ancora piuttosto piccola andiamo ad aumentare la loro dimensione tramite il size e lo portiamo attorno al 125 e se mandiamo in riproduzione sembra che apparentemente non ci sia nulla di strano e se attiviamo anche la griglia di trasparenza possiamo vedere chiaramente che le immagini delle particelle hanno il canale alfa ma se ora cambiassimo il preset con quello chiamato smoke loop 2 ecco che stranamente queste clip video non contengono la trasparenza per cui come risolvere adesso questo problema che ci fa vedere praticamente il perimetro con i margini neri a questo punto ci basterà scendere all'interno del gruppo di particle alla proprietà blend mode dove sappiamo che la modalità screen fonde ed elimina i pixel neri la selezioniamo ma ci accorgiamo di come si ci sia stata una fusione tra le particelle sovrapposte eliminando i pixel neri ma come possiamo notare non abbiamo eliminato quelli esterni alle particelle e per risolvere questo problema ci basterà attivare la casella subito sotto chiamata un molt dove ora dovremo rifinire un po più questo fumo giocando in primis con l'opacità che possiamo portare attorno al 50 per cento dare anche una sua casualità attorno al 25 per cento e se mandiamo in riproduzione ci accorgiamo di come le particelle alla fine della loro vita che è impostata a tre secondi scompaiono letteralmente di colpo il che rende la simulazione davvero poco credibile per migliorare questo aspetto andiamo a sfruttare i grafici del opacity over life applicando uno di quelli predefiniti con un decadimento lineare così da non percepire la morte istantanea della particella e avere un passaggio più sfumato altro accorgimento è quello di cambiare il posizionamento tramite una rotazione casuale infatti tutte le particelle sono posizionate frontalmente allo stesso modo per cui entriamo nel gruppo di rotazione e impostiamo un valore attorno al 50 per cento sulla casualità un altro aspetto da considerare è lo sfarfallio che vediamo sull'emettitore generato dalla produzione massiva di particelle infatti se questa zona restasse scoperta in base a quello che dovete fare e dove dovete posizionare questo fumo potrebbe non essere bello da vedere per cui possiamo intervenire modificando il grafico del size over life così da farle nascere con una dimensione pari a zero e con una curva morbida che si vanno a ingrandire eliminando così appunto quello sfarfallio prodotto sull'emettitore quindi dalla proprietà size over life apriamo il grafico selezioniamo il primo vertice e lo portiamo a zero esposto anche la maniglia per dargli una progressione sulla dimensione più graduale più morbida e ora avremo un'emissione delle particelle più uniforme questo è un modo per gestire appunto particelle con un'immagine o video personalizzata fermo restando che un aspetto che in pochi fanno caso me compreso è che questo plugin è stato pensato per lavorare a 32 bit infatti se lo richiamate dalla palette degli effetti possiamo vedere il mattoncino che ci indica la profondità dei bit a 32 quindi sarebbe cosa buona e giusta impostare il progetto a 32 bit detto questo vediamo un altro esempio ci portiamo su questa composizione con particolare inserito su un tinta unita e dove nella finestra di progetto ho inserito tre clip video che riprendono delle emoticon animate quindi le andiamo a inserire dentro un contenitore cliccando sull'icona in basso alla finestra per creare una nuova composizione che rinominiamo emoticon poi le seleziono e le trascino al suo interno direttamente nella timeline ora possiamo vedere che durano tutte tre secondi per cui le distribuisco in sequenza e sposto la linea temporale alla fine della terza dopodiché premo il tasto n per tagliare l'area di lavoro e con il tasto destro sopra quest'ultima la vado a troncare ora torniamo sulla composizione che contiene particolar prendo la composizione emoticon e la inserisco nella timeline dopodiché la spengo dall'occhiolino entriamo ora nel gruppo particle e seleziono la particella sprite dopodiché dal gruppo sprite control associo il livello emoticon diamo una dimensione attorno agli 80 e una durata di vita attorno ai 10 secondi mentre all'interno del gruppo emitter impostiamo quello di tipo box e portiamo un numero di una particella al secondo e se mandiamo in riproduzione essendo che il time sampling è impostato in maniera predefinita su random loop tutte le particelle riproducono all'infinito le tre clip da punti diversi mentre invece vogliamo che ogni particella scelga una clip e la riproduca in base all'opzione che gli impostiamo ecco perché quando si parla di video la modalità da utilizzare è quella con le tre opzioni dello split in modo che particular divida in tre parti questa composizione perché in questo caso abbiamo tre video e poi ogni particella scelga a caso una delle tre e la mandi in loop o con un'opzione del gruppo split quindi resta solo da specificare in quante parti la vogliamo dividere quindi come prima cosa impostiamo split clip loop e notate come seguendo la prima particella emessa questa riproduca solo due dei tre video quindi sotto al menu del time sampling troviamo la proprietà number of clip che è impostata in maniera predefinita su un valore di due motivo per cui riproduce a caso solo due clip ora verrebbe da dire che se volessi un unico video riprodotto dalla particella dovrei impostare il valore di uno e invece no perché dobbiamo impostare il numero totale delle clip così che ogni particella ne scelga una quindi impostiamo il numero 3 e volendo abbiamo anche una casualità mandiamo in riproduzione e avremo ogni singola particella che riproduce sempre lo stesso video per tutta la sua vita bene ora invece passiamo alla modalità split play once dove la singola particella una volta riprodotta l'animazione scompare senza tenere conto così della sua impostazione di vita vedete come ognuna particella appena riprodotta la sua clip scompare e infine abbiamo la modalità split stretch che concettualmente specifica la durata della clip video riprodotta in base alla vita della particella significa che ora ogni video dura quanto la vita che abbiamo impostato dalla particella e non più la sua durata originale per cui possiamo ridurla per riprodurlo più velocemente o aumentarla per dilatarlo ulteriormente e volendo interagendo con la proprietà life random possiamo ottenere una durata delle clip diverse in modo che alcune vadano più piano e alcune più veloci bene ragazzi ora facciamo un semplice tutorial per mettere in pratica alcune delle cose imparate in questi ultimi video quindi ci portiamo su questa composizione dove abbiamo già particolar inserito su un tinta unita e il video di questa ragazza che seduta su una panchina guarda al cellulare quello che faremo è creare un sistema di particelle personalizzate con delle emoticon che simulano l'uscita dal telefono e volano via e il modo migliore per indirizzare le particelle esattamente dove vogliamo noi è sfruttare un percorso di movimento quindi come prima cosa evito in questo caso di fare un tracking in quanto il movimento del telefonino è davvero minimo a questo punto dalla timeline con il tasto destro creiamo una nuova luce punto che rinominiamo esattamente con la parola motion path 1 rispettando le maiuscole ora apriamo la sua proprietà di posizione e a tempo zero accendo l'orologio poi vado a un secondo e la sposto un po più in alto poi vado a due secondi e la sposto un po più a destra leggermente in basso poi a tre secondi e la porto fuori dal monitor in diagonale in alto adesso collego la luce al tracciato portandomi nel gruppo displays di particolar e dal menu della proprietà motion path imposto il numero 1 così ora le particelle seguono la forma del percorso diamo una velocità al 50 per cento e avremo il nostro flusso che sembra uscire dal telefono e volare via adesso personalizziamo le particelle quindi da particle impostiamo la modalità sprite e ora andiamo a creare il contenitore con le immagini dell'emoticon quindi creo una nuova composizione che rinomino emoji e la portiamo a una dimensione di 500 pixel prendo le sei immagini che ho già importato qui nella finestra di progetto e che ho dimensionato anch'esse a 500 pixel dopodiché le seleziono e le trascino al suo interno trimmo le barre dei livelli affinché durino tutte esattamente un frame e poi le distribuisco in sequenza dopodiché riduco anche l'area di lavoro alla dimensione complessiva dei sei frame premendo il tasto n e la tronco a questa nuova durata ora torno sulla composizione con particolar prendo la composizione emoji e la inserisco nella timeline la spengo dall'occhiolino e dal gruppo particle all'interno dello sprite controls associo il livello diamo una velocità attorno ai 40 e una dimensione diciamo 50 ora però vogliamo che le particelle nascano piccole e si ingrandiscano man mano che vanno verso la fine quindi dalla proprietà size over life imposto un grafico con un decadimento lineare che però vado a riflettere dal suo menu in orizzontale così da ottenere esattamente la dimensione da piccola grande in progressione correggiamo eventualmente la durata di vita e infine andiamo nel time sampling dove in questo caso vogliamo che le singole immagini statiche vengano assegnate a ogni singola particella in maniera casuale e restino sempre quelle per cui dal menu impostiamo la modalità random steel frame andiamo in riproduzione e avremo il nostro flusso di emoticon correre lungo il tracciato ora sta a voi personalizzarlo come più preferite bene ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché mi aiuterete a farlo crescere e se volete far parte della community di krypton vfx italia potete sottoscrivere l'abbonamento mensile a 3 euro e 99 e accedere così al corso completo di after effects e ai contenuti esclusivi anche per oggi ci possiamo fermare qua e ci vediamo al prossimo video ciao